Pace e bene cari fratelli e sorelle, bentrovati! Il Vangelo di questa domenica è particolarmente profondo, prezioso, utile per aiutarci a crescere. Ci consegna un'immagine molto bella di Dio e due espressioni fondamentali di morare in Cristo e lasciarsi potare. Vediamo un po'. Gesù ci dice che lui è la vite vera, noi i tralci e Dio padre è l'agricoltore, il vignaiolo. L'immagine del vignaiolo sembra fredda, scarna, invece è molto profonda. Esprime infatti la cura che Dio ha per noi. In natura il vignaiolo si prende minuziosamente cura della sua vigna e fa di tutto per metterla in condizione di portare frutto e aspetta pazientemente che lo produca. Ecco, Dio padre si prende cura di te perché tu possa giungere a pienezza, alla santità, alla misura più alta dell'amore e attende pazientemente che tu corrisponda. Al contempo Gesù ci dice che lui è la vite vera, noi siamo i tralci. È un'immagine bellissima, ci parla di un'unione ancora più profonda di quella che c'è tra madre e figlio. Se ci pensate una madre porta nel suo grembo il bambino, scorre il medesimo sangue, il respiro, il nutrimento, ma ad un certo punto se il figlio non si stacca dalla madre muore. Qui invece il rimanere attaccati a Cristo è decisivo per vivere. Infatti dice Gesù chi rimane in me e io in lui porta molto frutto perché senza di me non potete fare nulla. Questa unione con Gesù sacramentalmente è iniziata il giorno del battesimo, dove siamo stati innestati in Cristo come i tralci alla vite. Così tra noi e Gesù scorre la stessa linfa, la stessa vita, cioè lo Spirito Santo. Ma rimanere in lui non è qualcosa di statico, è un verbo dinamico. Pensate già nell'esperienza umana del fidanzamento. Un fidanzato cosa dice della fidanzata? Sto con lei e lei sto insieme a lui. Questo stare non è lo stesso di un soprammobile che sta sulla credenza, implica amore, condivisione, reciprocità. Ecco San Giovanni dice che si dimora in Cristo se si osservano i suoi comandamenti, cioè se crediamo in lui e amiamo gli altri come lui, se cerchiamo di vivere in comunione con lui. Che bello allora vivere la fede così, come una comunione bella, gioiosa, vitale, uno stare con, un essere di casa con il Signore, permettere al Signore di fare casa nel nostro cuore. Dunque si parte da qui, miei cari, Dio che si prende cura di te, che infonde in te la sua vita, il suo amore, e ti chiede di stare unito a Lui perché la tua vita, tra bocchi vita, sia piena d'amore. Non solo, miei cari, essere di Cristo, essergli uniti mediante la fede e l'amore, significa essere nella condizione di poter trasformare anche una perdita, anche una difficoltà in un'occasione di crescita. E qui passiamo alla seconda parola, lasciarci potare. Gesù ha detto ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. L'immagine è chiara. In natura il vignaiolo, nel momento giusto dell'anno, pota la sua vite. Perché? Perché porti più frutto. Se la vite non venisse potata, rischierebbe di produrre troppa uva che non giungerebbe a maturazione e il vino avrebbe una bassa gradazione. Se non venisse mai potata, rischierebbe alla fine di produrre soltanto uva selvatica. Quindi la vite, per portare frutti buoni, necessita la potatura. Mi cari, già a livello umano, nella vita quotidiana, potare è necessario per vivere. Se ci pensate, vivere è scegliere, è decidere. E ogni decidere comporta un recidere qualcosa, un rinunciare a qualcosa. Se desidero vivere bene, non posso fare tutto. Devo imparare a darmi delle priorità e soprattutto devo rinunciare a quelle attività, desideri, ambizioni che mi disperdono, che dilapidano le mie forze. Potremmo dire che in questo senso la potatura ha a che fare con il discernimento. Allora ci fa bene chiederci quali sono le priorità da custodire. Non è che mi sto disperdendo in cose inutili? Ma ritornando al Vangelo e andando più in profondità, Gesù ci sta consegnando una chiave preziosa per la nostra vita. Dio Padre è un po' come questo vignaiolo. Sa il potenziale della vite, dunque. Sa bene il bene di cui tu sei capace, che in te c'è seminata tanta bellezza, la sua immagine, e vuol far di tutto per aiutarti a tirarla fuori, perché tu possa somigliare al figlio suo Gesù. E come ci pota Dio Padre? Lo dice Gesù nel Vangelo. Voi siete già mondi per la parola che ho annunciato. Dio ci pota, o meglio ci purifica, questo è il verbo che usa Giovanni, mediante la sua parola. Se ci pensate, purificare richiama quell'operazione chimica che serve a rendere nette le sostanze. Ad esempio, purificare l'oro significa togliere da loro ciò che oro non è. Ecco, il Signore vuol togliere dal nostro cuore ciò che amore non è. Dunque vuol purificarci da quegli egoismi latenti, da quegli attaccamenti più o meno evidenti, che talvolta neanche noi vediamo. Ecco allora, miei cari, l'importanza della preghiera, del meditare il Vangelo, dell'ascoltare con attenzione le letture durante la messa. Abbiamo bisogno di lasciarci parlare al cuore da Dio, di lasciar scendere in noi la sua parola, che setaccia, ci scava dentro, che man mano illumina il nostro cuore, aiutandoci a capire cosa significhi davvero amare. Ma vedete, miei cari, oltre alla parola potremmo dire che le potature ci arrivano anche mediante quelle situazioni difficili che la vita ci riserva. Incomprensioni, malattie, ingiustizie subite, tutti quei cambiamenti che forse nemmeno avremmo mai voluto, ma che inesorabilmente arrivano. Tutte queste situazioni, vissute in Cristo, possono diventare occasioni per crescere. Da quelle persecuzioni, prove o tribolazioni, possono sorgere le gemme più belle della vita spirituale. Attenti, miei cari, non sto dicendo che Dio manda le sofferenze perché ci deve potare, ma che Dio nel suo amore onnipotente da quelle sofferenze ne sa trarre un bene più grande, perché come dice San Paolo, tutto concorre al bene per coloro che amano Dio. E allora quella malattia che stai vivendo, quell'ingiustizia che stai subendo, quella situazione difficile che stai attraversando, vissuta con lui, diventa misteriosamente una strada di crescita, occasione per un bene più grande, luogo dove può germogliare una gemma spirituale. Il punto allora è chiederci, ma noi cosa ne abbiamo fatto e cosa ne stiamo facendo di queste potature? Potremmo dire che da come le accogliamo possiamo capire chi siamo, a che punto siamo e di chi siamo. Se le piccole o grandi difficoltà della vita lasciano in noi soltanto amarezza, risentimento, insoddisfazione, lamento, forse c'è qualcosa che non va, forse siamo un po' troppo centrati su noi stessi, forse non siamo veramente aggrappati a Cristo, al vero bene. Se invece quella difficoltà, quella tribolazione, nonostante il dolore che ti reca, ti sta aiutando in qualche modo a diventare in qualche modo più lucente, più orante, più amorevole e comprensivo, allora significa che davvero stai accogliendo la grazia dello Spirito Santo, che anche dal tralcio più potato e malandato sa tirar fuori grappoli di bene inimmaginabili. Allora capiamo bene, miei cari, avere fede non significa aver stipulato con Dio un'assicurazione contro gli infortuni o avere in tasca una sorta di amuleto contro i problemi. Avere fede significa attraversare anche quei problemi con Lui, sapendo che possono essere tappe decisive per una vita ancora più profonda. Quante volte, proprio grazie alle difficoltà, siamo cresciuti, siamo scesi un po' più in profondità, abbiamo scoperto ciò che è davvero importante o abbiamo imparato di più a metterci nei panni degli altri, a capirli, ad averne misericordia, ma vedete tutto questo non avviene in automatico, avviene a patto che ci decidiamo davvero a seguire Gesù e a essere uniti a Lui. Non basta sapere che Dio sa trarre dal male un bene più grande, non basta sentir dire che c'è una fecondità anche nelle fragilità della nostra vita, bisogna farne esperienza. Ecco perché siamo partiti dal verbo rimanere, dal dimorare in Lui. Se rimarremo in Lui attraverso la fede e l'amore, alimentando il rapporto con Lui giorno dopo giorno, Gesù rimarrà con noi, con il suo amore e la sua fecondità. E allora scopriremo e sperimenteremo sempre più che anche dalle sofferenze e dalle prove della vita, Lui ne ha saputo tirar fuori nuova vita e che di quanto abbiamo sofferto e amato in Lui nulla va sprecato. Dunque coraggio! Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, ci ha detto Gesù. Chiedete quel che volete e vi sarà dato. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Che il buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti!